dalla procura di Roma Massimo Ferrero e da altre 5 persone. Si è andato a vedere, già ho speso tantissimi milioni sul mercato, già l'ho rimesso al mercato, non l'abbiamo messo nelle casse della Sampdoria. Seppur in misura a minore, l'inchiesta riguarda anche la società Sampdoria. Infatti è emerso che è sparita dalle casse societarie una somma equivalente ad 1,2 milioni che corrisponde a parte degli introiti percepiti dalla cessione di Obiang al West Ham nell'estate del 2015. Io bianco non parlo, è un ottimo giocatore, è cresciuto in Sampdoria, io li voglio molto bene, è un bravo ragazzo, però chi vivrà, vivrà, vedrà. Dico i tifosi andoriani che mi accusano che vendo tutto, non ho venduto nessuno. Il presidente della Sampdoria Ferrero è coinvolto in una indagine della Guardia di Finanze. Amo il calcio, non amo il pallone, il calcio è amore. Io non capisco niente di calcio. Ho voluto unire due forze che sono signimi, anche nel nome Cinema, Calcio e Cultura.